Sì, benvenuti a tutti, il succo di arte è venuto a Luciano Fontanella, che si è occupata durante i suoi anni di lavoro all'Università di Torino di materie chirurgiche e linguistiche, in particolare per quanto riguarda la formazione degli insegnanti. Marco Gerdas da Filitaria, laureato in medicina e chirurgia, ha svolto attività di ricerca in ambito oncologico come epidemiologo, collaborando con l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, Assessore della Sanità e Servizi Sociali al Comune di Firenze dal 1996-1900, e Direttore Sanitario del Presidio Ospedale di Firenze, Ospedale di Santa Maria Nuova. Con noi il Professor Stefano Riffoni, Direttore responsabile del reparto di pronto soccorso e osservazione breve dell'ospedale Carielli di Firenze, specializzata in medicina interna, in malattie dell'attarato respiratorio, fisiologico o fisiologico, e fisiopatologia respiratoria, in malattie del cuore e dei vali, e si comincia con la comunicazione diseguale, subito, malattie del cuore e dei vali, conseguite presso l'Università degli Studi di Firenze, professore a contratto di medicina d'urgenza, cardiologia e neurologia, presso l'Università degli Studi di Firenze, Direttore del Centro Regionale Toscana per la cura di una malattia tromboembolica acuta, e taglio perché sennò dovremo trovare ancora di più numerosi di studi pubblicati. Sì, ma ho tagliato, vi garantisco. I libri che si offrono oggi alla nostra riflessione riportano l'attenzione sul senso delle parole in sanità. Nell'incontro medico-paziente, infatti, vengono a confrontarsi due linguaggi diversi e nessuna delle due parti in causa si rende compiutamente conto in quel momento di questo fatto. Il medico usa un suo linguaggio tecnico, che ormai è diventato tanto abituale da supporre che esso sia chiaro e comprensibile a tutti. Non si rende conto perciò del fatto che tale linguaggio possa invece risultare incomprensibile per il malato, o perlomeno possa essere frainteso da chi lo ascolta. Il malato, qualunque sia il suo grado di cultura, usa un linguaggio che non ha appreso nelle accademie mediche, ma che deriva da un altro genere di studi. In questo confronto il valore e il significato di molte parole può essere assolutamente diverso per i due interlocutori. È evidente che spetta innanzitutto al medico il compito di rendersi conto dell'esistenza di questo problema, verificando volta per volta quale sia il reale significato che il malato attribuisce a un determinato termine. Allo stesso tempo il medico dovrebbe anche verificare se il malato ha compreso il reale significato che gli ha inteso dare le sue parole. Solo in questo modo è possibile garantire corretta comprensione dei messaggi di quelli che il malato trasmette al medico e di quelli, a sua volta, che il medico trasmette al malato. ma l'abbiamo implementato una sui tempi di rappresentazione che comincia, la signora Fontanella. La signora Fontanella, ho letto con grande attenzione, tutti e due, si sente? Ho letto con grande attenzione, dicevo, tutti e due i testi che sono scritti in maniera esemplare e sono coiugati da un elemento fondamentale. Tutti e due discutono di quello del livello della comunicazione e come avviene la comunicazione. Da una parte la signora Lucia affronta il problema descrivendo un suo percorso all'interno di una struttura ospedaliera e parla di una comunicazione diseguale non tanto nel senso di... e non solo nel senso del linguaggio ma anche di una posizione del paziente che è a un fronte del medico diseguale perché il... e vi leggo, penso che avrete avuto modo di leggere, ma ero come quasi tutti malati in situazione di grande svantaggio. Questa è la comunicazione diseguale. Nella comunicazione diseguale si riscontra in particolare uno sbilanciamento nel possesso dello spazio del tempo e della lingua. Il paziente è un attore comunicativo passivo, debole, soggetto a pressione psicologica. Questa è la comunicazione diseguale. E prima di introdurla avevo fatto su queste parole, quindi parole del libro, una riflessione. E' vero che l'ospedale è per tutti e deve essere per tutti ed è vero che i medici devono avere un linguaggio che sia comprensibile. E tutto ciò nasce da un passaggio fondamentale nella comunicazione medico-paziente che è quella dell'ascolto, cioè i medici hanno iniziato a non ascoltare e quindi può essere che la comunicazione diseguale nasca perché il medico ha degli indirizzi specifici tecnologici che segue e il paziente ha delle aspettative diverse in un piano e in un luogo che è uguale a tutti. ma in realtà dove il medico vive la sua vita quotidiana all'interno dell'ospedale mentre chi ci arriva è una situazione o vive una situazione diversa perché è il paziente e quindi si aspetta che sia accolto in maniera adeguata con le cure adeguate e che venga l'aspettante. Quindi la diseguaglianza è proprio perché l'incontro avviene in un luogo dove il medico vive perché è l'ospedale e quindi ci lavora e il paziente no, il paziente incontra per la prima volta il medico nel suo percorso di malattia. Lui vorrei ascoltare la signora Fontanella nel suo percorso cercando anche di farci capire ancora di più la comunicazione diseguale. Ecco, grazie di essere qui, sono molto contenta. Ha già detto che il libro è nato da un'esperienza che ho avuto sei anni fa un ricovero complesso, difficile, è iniziato molto male e è finito bene, come vedete. Dopo essere stata in diversi reparti, dopo un mese, un chirurgo che dice lei è troppo malandata per essere di nuovo operata, va da casa e io felicissima mi avvio per andare a casa, mi avvio, parola grossa, insomma, chiedo di essere portata perché non sta in piedi. Mio marito mi dice no, assolutamente, deve andare a ringraziare il direttore della terapia intensiva. Io avevo un ottimo ricordo di questa terapia intensiva, ma non sentivo alcuna necessità di andarlo a ringraziare, per me è la priorità di uscire dall'ospedale. Sono stata portata e l'ho riconosciuto in questa persona, una persona che vedevo nel reparto molto spesso, questo reparto torinese è grande, aperto, quindi avevo modo di vedere medici, infermieri, con la città e quindi l'ho riconosciuto come una persona che conoscevo bene, per averlo visto spessissimo e a cui oltretutto l'ho legato dei ricordi per me molto importanti. Parliamo, lo ringrazio, mi chiede se lavoro e che mestiere faccio, e io gli dico che mestiere faccio, non ero ancora in pensione. Così senza pensarci ho detto, sa che io vi ho molto osservati, perché per mestiere faccio molta attenzione a che cosa dice la gente, a come si comporta. Lui si è illuminato e mi ha detto, allora lei deve venire a raccontarci tutte queste cose, perché noi abbiamo un gran bisogno di persone che vengano a dire come ci comportiamo. E da lì sei anni fa è nata una bellissima collaborazione con questa equipe e che ha prodotto tanti incontri con medici, infermieri in giro per l'Italia. Mi era stato chiesto di buttare giù qualche appunto e l'ho fatto e poi mi sono stampata in modo molto questo casalingo, un librettino, grosso modo col contenuto, ma che circolava un po' così, alla buona. E poi il pensiero scientifico ha creduto in questo libretto e ne ha fatto un libro serio. Questo ve l'ho detto per capire che non è un libro d'autore, non ho voluto parlare di me, ma era nato come un manoletto per aiutare i medici e gli infermieri che frequentano i corsi sulla comunicazione. Credo che nel titolo ci sia già un po' tutto. Come è stato detto, la comunicazione diseguale non è un titolo all'effetto, è un argomento, una teoria linguistica molto precisa, poco conosciuta, poco divulgata, mentre secondo me potrebbe veramente aiutare tutti a capire meglio cose che incontriamo tutti i giorni e che ci pesano molto, a cui reagiamo ma che non capiamo pienamente. Quindi ero contenta di poter parlare di questa comunicazione diseguale. Ho aggiunto tantissimi ricordi perché è impossibile proporre ad un pubblico non di specialisti di passare dalla teoria alla quotidianità. Mentre è molto semplice e devo dire che aveva avuto diversi riscontri su questo, partire dai ricordi, partire da questioni quotidiane che sono capitate a me, ma capitano a tantissime persone e da lì aggiungere questioni teoriche che possono spiegarle. Ecco perché, anche se sembra banale, un fatto è certo. Noi, data la società in cui viviamo, ci comportiamo parliamo, scriviamo in un modo estremamente convenzionale. Anche quando ci sentiamo molto liberi di fare come vogliamo, non è affatto vero. Noi, appunto, abbiamo una società convenzionale che ci educa a comportarci in una certa maniera. Ad esempio, questo è un punto fondamentale per la teoria della comunicazione diseguale, siamo abituati a comportarci in modo diversissimo se siamo padroni, tra virgolette, oppure no. E siamo autorizzati dalla società a farlo. Il padrone di casa può comportarsi in modo diversissimo dall'ospite, può e deve, l'ospite se lo aspetta. E se io sono l'ospite mi fermo sulla soglia, chiedo permesso, non posso fare determinate cose. Vengo educata da piccola a non fare queste cose. Allora, questi atteggiamenti che noi, ripeto, autorizziamo e accettiamo volentieri in tante situazioni della quotidianità ci stanno molto molto stretti in altre situazioni. E cioè quando ci troviamo in un ambiente che è pubblico e deve essere pubblico, come l'ospedale, che deve essere di tutti, se mi chiedessi di chi è l'ospedale pubblico credo che tutti mi rispondereste, di tutti, seppure con ruoli diversi, responsabilità diverse non ho mai pensato che un paziente debba sostituirsi al medico nella scelta delle cure, non dico questo ma se è percepito come luogo di tutti dovrebbe produrre in chi lo frequenta, quindi personale sanitario, pazienti, familiari un tipo di atteggiamento che, vi ripeto, è consolidato e convenzionale, che non ha nessuna marcatura della propria età non dico in parole più semplici, quando entro in un ospedale pubblico io non dovrei notare nessun atteggiamento nulla che mi faccia pensare che lì qualcuno si sente padrone. Bene, succede assolutamente l'opposto praticamente tutto, non solo negli ospedali, io sono sempre occupata di scuola, nella scuola succede la stessa cosa praticamente tutto ci manda dei segnali sul fatto che qualcuno gli si sente padrone e dovrebbero usare toni, atteggiamenti, gestualità e tutta una serie di altri elementi che la nostra società autorizza utilizzare all'utilizzare, ma non in contesto pubblico autorizzato a utilizzare quando sei veramente a casa tua o nella tua macchina o in un luogo assolutamente tuo. Ecco, sto dicendo che i medici e gli infermieri che sono tutti esseri perversi, cioè che proprio se nasci perverso vai a fare il medico all'infermiere e allora fai il padrone di tutto, no, non può essere così. Questa è un po' la chiave di lettura di questo libro è che, come dire, toglie un po' di responsabilità al singolo individuo c'è qualcosa che scatta a livello più generale e che appunto fa sì che chi lavora in un certo ambiente in un certo ambiente, in qualsiasi, in qualsiasi, capita nelle famiglie che gli adulti si sentono molto più padroni dei bambini, degli spazi, di tutto. Allora, chi lavora in un certo ambiente se ne possessa e incomincia ad atteggiarsi al padrone. Allora, così come noi facciamo a casa che scegliamo chi viene, quando viene, quanto sta. Poi siamo educati garbatamente e magari non cacciamo via ma cominciamo a far capire che è l'interno della visita e che non siamo capacissimi di fare queste cose. Bene, quando l'ospedale rimette l'orario di visita puoi entrare da A. Non sta forse comportandosi da padrone di casa? Ecco, il gruppo di medici con cui lavoro di infermieri sta facendo da anni questa battaglia sull'apertura degli ospedali. Io mi occupo di un sito che si chiama Ospedale Aperto. Voi qui in Toscana siete molto ben abituati, ma credo sappiate che nel resto d'Italia la situazione non è come questa. Gli orari di visita sono molto ristretti, tanto più il reparto è delicato, come ad esempio una terapia intensiva, tanto più la limitazione al parentino è veramente incibile. Cioè è qualcosa che non può avere motivo ad essere, eppure è ancora diffusissima. Non ho tempo per parlare di tutto. volevo soltanto farvi notare che un elemento veramente pesantissimo che denota il fatto che lì qualcuno si sente padrone è proprio questo. Quello della chiusura della porta. Entri quando voglio lì. E ti faccio anche credere che lo faccio per il bene del malato o per il tuo bene. E non è assolutamente vero. Oppure ti faccio credere che appunto esistono problemi di infezione. Quando io ho sentito dire che da vent'anni si sa che le infezioni non arrivano da fuori ma stanno dentro. Mi è crollato un mondo ma mi sono arrabbiata moltissimo. Perché allora chiudi le parti perché dici mi fa più comodo? ma non li puoi chiudere facendomi credere e spaventandomi di problemi di infezione. Sono molto diretta nel dire le cose ma credo che vanno dette in questo modo. Quanto tempo dedico per parlare con te o con i tuoi familiari. Che lingua uso io, ospedale, per parlare di te e della tua salute. Io ho sentito molto molto spesso lamentarsi dei familiari. Però c'è una grossa differenza. Il medico o l'infermiere si è formato per fare questo lavoro. Nella formazione deve essere prevista la capacità di relazione con gli altri. Il paziente, il parente non ha studiato per diventare malato. O per avere appunto, come è capitato nella mia famiglia, qualcosa di improvviso e gravissimo. Cioè sono cose che ti collano addosso. Quindi c'è una disparità enorme. Non si può mettere sullo stesso piano la reazione di una persona terrorizzata con la professionalità di chi deve formarsi a questo. Gli esempi sono veramente tantissimi. Mi sarà capitato, ma se mi ricapita, guardate il tono dei cartelli che circolano negli ospedali. Secondo i linguisti sono cartelli minacciosi. La minaccia non è puntare una pistola alla schiena. È minaccia ogni volta che c'è un'imposizione forte. I cartelli di solito chiedono, non chiedono. Di nuovo, un atteggiamento di questo tipo scatta unicamente in chi si sente padrone, in chi pensa di avere il diritto di poter usare questo tono. E lo fa inconsapevolmente. Il libretto, come vi dicevo, è circolato anche in forma molto più familiare nell'ospedale in cui ero stata ricomerata. E ha prodotto molti cambiamenti. Due reparti che non mi erano assolutamente piaciuti, non tanto per la qualità della cura, che è stata veramente alta, ma per il modo in cui sono stata curata, oggi sono completamente diversi. Sono reparti aperti, sono reparti in cui entri e vedi i bellissimi quadri alle pareti, in cui ti accolgono. Ecco, un buon padrone di casa accoglie gli altri. E stiamo dicendo che non bisogna comportarsi da padroni, ma anche essendo, dovrebbe venire in mente di accogliere. Negli ospedali pubblici non si è accolti. Spesso ti ritrovi e non capisci neanche dove sei e che cosa accadrà. Bene, io sono stata felicissima di notare la distanza di anni che questi reparti sono cambiati e non soltanto a Torino, in giro per l'Italia. Non dico che siamo bravissimi, dico un'altra cosa che spesso non ci si rende conto. Le persone che io ho incontrato si sono stupite moltissimo dicendo io non ho mai pensato a queste cose che hai scritto. Ecco, quindi non c'è della perversità o della malaffete, c'è un'abitudine che è diffusissima, che è quella appunto di dire io ci lavoro, quindi questo spazio me lo organizzo come voglio, il paziente passa e va, trascurare la famiglia. Non si ammala un individuo, si ammala un'intera famiglia. è tanto più grave la malattia, tanto più battiscono più i familiari. Nel mio caso i momenti peggiori per me sono stati in un mondo parallelo in cui sì ero alle prese con un incubo che mi dava molto da fare, ma se fossi morta francamente non me ne sarei accorta. per mio marito e miei figli è stato approccio. Ma questo viene poco riconosciuto dall'ambiente sanitario. Pensano sempre che il malato a cui badare debba essere quello che è lì nel letto e quindi grande attenzione alle famiglie. Ecco, se ci si impone veramente di pensare che l'ospedale è di tutti, spontaneamente scattano gli atteggiamenti giusti, corretti, uguali. Esattamente come in questa sala ci sentiamo tutti uguali, se ci scusiamo. Se tu in un corridoio urti, un medico, un infermiere, capita certamente perché sta generalizzando. Quindi non si può dire ma io ho avuto un'esperienza bellissima, io ho avuto esperienze bellissime. Però è ancora vero, verissimo, che in Italia al primo punto fra gli elementi di scontento c'è il modo in cui l'ospedale entra. E' ancora questo. E quindi è un dato che non possiamo trascurare. Allora, per finire, la mia proposta è proprio di ragionare su questo fatto. Se tu ti senti padrone, ti comporterai in un modo che abbia le conseguenze negative, perché il tuo pubblico non lo accetta, non può accettarlo. Se tu ti imponi ogni giorno, quando nel tuo reparto, di sentirmi un cittadino, un cittadino professionista, ma di fronte a un altro cittadino, scatta un atteggiamento di civiltà che porta con sé l'atteggiamento corretto. Io non desidero l'ospedale buono, il medico buono, un infermiere buono, non credo che ci si possa voler tutti bene. Desidero un ospedale civile, che abbia il rispetto degli altri. Visto che era il mio mestiere, il rispetto significa semplicemente porsi uno di fronte e l'altro, sullo stesso livello. Niente più che questo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 L'ospedale è di tutti, deve essere di tutti. Un luogo pubblico in cui ciascuno ha un luogo di reciproca utilità, nel pieno rispetto di tutti. Io malato non sono forse la vostra ragione di essere, caro dottore, caro infermiere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.